Lorenzo Basili del Tor di Quinto dopo questa vittoria 2-1 contro la Vigor per Conti Allora una partita molto scorbutica si sapeva insomma è uno scontro che poi è sempre stato importante a livello regionale siete riusciti a spuntarla, è soddisfatto? Sì, intanto buonasera, mi scuso per la voce ma ho finito nell'incontro è soddisfatto, soddisfattissimo soprattutto nel primo tempo perché nel primo tempo c'è stata una superiorità netta proprio peccato per gli ultimi metri sotto porta perché dovevamo chiudere il primo tempo con un vantaggio superiore non solo di un gol che naturalmente gli permetteva di giocare il secondo con un po' più di calma invece è iniziato il secondo dopo un po' il rigore poi c'è stato un po' di nervosismo però noi la partita era stata preparata bene eravamo preparati ad affrontare una partita del genere siamo preparati ad affrontare partite così fisiche, partite così nervose abbiamo giocatori che comunque qualcuno ha già fatto questo campionato come Pellegrini o De Julis o Maestrelli comunque l'altro anno con il 2002 quindi gente che anche a loro piccola età si possa definire esperta però bella partita, bellissima, bella vittoria soprattutto Ecco mister, nel secondo tempo forse vi siete un po' sfaldati hai iniziato meglio la Vigor per Conti poi cos'è successo? Siete riusciti a ritornare sul pezzo subito e poi a portare a casa la vittoria? No sì, abbiamo iniziato il secondo tempo ma nemmeno sotto tono perché abbiamo iniziato bene poi c'è stata l'azione quella del rigore con il giocatore loro che è andato bene via in mezzo a due lì naturalmente sull'individualità ho fatto corale quindi di squadra che ne è un po' a meno perché hanno fatto una super giocata è passata in mezzo a due persone e si è guadagnato il rigore e subito dopo il rigore c'è stato un momento di frenesia direi più che disuniti erano frenetici però poi naturalmente la squadra si è rimessa subito in carreggiata ha rimesso subito le idee a posto ha rimesso le distanze tra i giocatori le hanno rimesse a posto ha rimesso tutto nella norma e piano piano si è continuato a macinare il gioco e naturalmente poi si è legati al 2-1 che potrebbe essere altrimenti ecco al di là della prima giornata la sconfitta con la Lorigiani che un po' fa storia a sé per come è arrivata le assenze e tutto avete fatto un percorso netto adesso insomma puntate a rimanerci qua non in vetta però insomma nelle zone altre sì ma noi puntiamo sempre con tutte le squadre puntiamo sempre ad arrivare in vetta quindi il percorso loro è stato la prima giornata abbiamo fatto una buona partita no le assenze le assenze non contano niente perché una squadra ce l'ha da 25 noi siamo 30 quindi le assenze sono rilevanti perché se no non tieni 30 giocatori te ne tieni 14 e quando tanti sei l'assenze allora lì ne contano con 30 giocatori le assenze non contano lì il problema è stato forse la prima partita un po' nervosi abbiamo fatto un primo tempo brutto il secondo tempo già meglio poi siamo ripartiti infatti dal secondo tempo nelle partite successive poi sono contento per il ritorno del proposto dopo l'infortunio si è rotto la cavicola in preparazione rientrato bene senza paura anzi direi che la paura proprio non ce l'ha mai avuta e ha dimostrato sia prendendosi rigore alla fine che con la rovesciata prima di valersi il posto